Ciao a tutti ragazzi, qui è Fortailmer che parla e benvenuti in un nuovo video. Oggi ragazzuli, come avete letto dal titolo, faremo una sfida un po' diversa dal solito. In pratica, ho fatto questa modalità di Fortnite in cui ogni kill che facevo mi faceva aumentare la rarità della mia arma. È stata una modalità veramente fighissima, mi ci sono tipo incappato un botto. Infatti, sono riuscito anche a fare un'ottima partita che non vi voglio spoilerare. Vi ricordo, tra l'altro, che l'abbiamo registrata in streaming, dato che ragazzi ormai ogni sera vado in streaming sul sito Viola. Se anche voi volete aggiungervi, basta che andate in descrizione nella sezione di live streaming, ragazzi, iniziate a seguirci. Cioè, è veramente easy. Che stasera saremo in live. Intanto però, molto più importante ragazzuli, lasciate un like e soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video di questo tipo. Intanto ragazzi, io vi lascio a questa gran partita. Bella ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi, potete andare all'interno dell'idem shop, nella sezione supporto a un creatore. Inserite il codice creatore fort, così come vedete a schermo, poi accettate. E da ora, ogni acquisto che farete, mi darà una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Scendo molto male. Però c'ho le armi e le splash, se vuoi. Se me raggiungi c'ho pure una cesta. Ma se proprio vuoi, eh. C'ho pure un assalto per te. Cioè, io ti puro e quello ti spara. Io non lo so. Vabbè. Gatti questo. Ma sono tizio là? Beh, uno. Uno dei tanti. Ah, che bello avere una a destra e una a sinistra. Mamma mia. Vieni, Giacomo. Giacomo, Giacomo, dove sei, Giacomo? Piedi il medikit, Giacomo, una cosa veloce. Ti copro io. Giacomo, devi essere proprio un flash a farti questo medikit. Giacomo, lo puoi andare. Gli senti? Vai, Giacomo, vai, Giacomo. Ok, Giacomo. Bello. Finito i materiali. Eh, beh, Giacomo. Eh, uno ci ho provato, frate. No. Ma no, mi era finito il caricatore. Ho finito tutto. Ho finito i materiali, ho finito il caricatore della pistola, ho finito il caricatore del pompa. No. Vi prego, non venite qua, vi prego. Aspetta, aspetta, te ne passo due. Il vero, tu hai passato una e se l'hai anche ripresa. Va bene, vai. Prate, questo staffa è il drift. Se si avvicina qua, siamo morti. Sta driftando con l'auto. Ah, già, l'ho mangiato. Ma ci ha visto? Sì. Sì, 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 sì. No, 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 non ci ha visto. Mannaggia. Uno massacrato. Sì, sì, sì. Sta solo il compagno là. Scusami per la kill. Meglia, se mi venimi vicino... Meglia, Meglia, siamo circondati, Meglia. Vieni, ciao. Mi ringrazio dopo. Mi credi che non so come ci siamo salvati? Vabbè, io salgo, ciao. Giacomo, Giacomo. Eh, Giacomo, non me ne so accorto, perciò sono saluto. Eh, ma è rimasto solo a me, Giacomo. Divertiti, Giacomo. Non mi sa più. Quando salgo non fammi un fischio. Aspetta, Giacomo, provo a fargli il giochetto. Giacomo, 33, 33. Giacomo. Mamma mia, Giacomo. Giacomo. È riuscito. Non te ne hai proprio accorto, eh? Eh, Giacomo. Eh, vabbè, Giacomo, GG. Mamma mia. Giacomo, una cosa va luce che ce n'è mai. Oh, 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 oh. Scendo, 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 scendo. Non so da dove. Eh, vabbè. No, non ho capito da dove. Vorrei provare a risalire per capire, però non so, sì. Giacomo, non abbandonarmi, Giacomo. Eh, Giacomo, non capisco. Io credo che questi siano la Stark Industries. Se stanno qua, è finita. Come? No, non vieni. Vabbè, vieni giusto per piegare la Rift. Non è vero, non venire, non è vero, non venire. Non ha senso perché tutti gli danno della safe. Vattene. Che schifo. Eh, Giacomo, ci provo. Ho fatto 120, se riesco a eliminarmelo. Da ieri così non li acchiappavo da 2000 mai. E ho fatto Giacomo, motivo di essere. Giacomo, cura di che ti nasce vita. Tranquillo, flopper, 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 va. Andiamo a... No, 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 no. Eh, vabbè, ormai ci sono andato. Bello. Ah, mi sono morto. Guarda. Una terra. Bianco, bianco. Ah, Giacomo, riesci, eh, ragazzi. 49, 33, morto. C'è questo. È un po' brutale. Eh, Giacomo, scusami. Pure gratuito, gratuito. Potete farlo nel caso in cui, mamma mia, ha distrutto. What? Stanno ancora dietro, stanno venendo. Eh, ho visto, ho visto. Può diventare bianco. Eh, me lo so accorto. No, ho avuto pure tempo per eliminarlo. GG. Battuto. Mamma mia, fra quanta gente... Guardate, quanta gente ci sta. Credo roba come... Quattro team. Mi piace, mi piace. Eh, ti piace? Aiutami a sfondare là, aiutami a sfondare sotto, sotto. Spara sotto, spara alla basca. Uno è caduto, ma ha dato la kill, non a noi. Sì, 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 lo so, lo so, lo so. Stavo... Pensavo lo sapessi. Ah, io penso. No. Una terra. Questo, madonna, sei tu, Meglia. Madonna di Dio, Meglia. Questo non sei tu, questo che ha aperto. Ok. Va bene. Tutto nella norma. Che dici, ci allunghiamo? Sì. E se quello volesse morire, magari no, eh. Va bene. Granata, serio? L'ho lanciata pure bene. Non è abbattuto? Sì. Fra, ma ci sta un altro lima ancora. Eh, sì, lo so. Dietro, dietro, dietro. Lo so, lo so, lo so. Però non è quello che lo so. Mamma mia. Eh, dai. Eliminate. Uh. What the? Ma mi ha fatto un colpo incredibile. Sta venendo. Va bene, arrivo. Stai accompagnando ancora qui dietro, però. Uno davanti, uno dietro. Va bene, va bene, va bene. Ho visto, ho visto. Quello... Quell'altro l'ho visto. Quello dietro. Quello davanti pure. Attenzione, quello si avvicina. 36, c'ha lo shield, eh. 36 non shield. Eh, fra, io provo a pushare a questa destra. Tu dammi il supporto da lì. Non c'è bisogno che vieni con me. Se morisse. Eh. Ok, c'ho da pure l'altro. Mmm. Saluto tutte le persone alla fine della partita. Vai, tranquillo, copro io, copro io. Vai, vai, vai. Copro io. Vai, vai, vai. Vai, vai. Hai capito la direzione ormai. Quanti secondi? Quanti secondi? Quanti secondi? Quattro. Eh. Due. Ti lascio. Vai, vai, vai. Vai. Compagno uno shield. 121. Terra. Mi curo. Mamma mia. No, ma mi hai spogliato. Fra, mi servono solo due kill. Due kill e faccio 20 kill. Mi servono solo due. Lasciamone solo due. Se gentilmente quell'ultimo non li elimina, non è un problema. Ho fatto il sondaggio, va bene, va bene. Eh, l'ho visto, sì, è quello singolo, è quello singolo. Se riesco a eliminarmelo veloce veloce, poi ci facciamo gli altri. Perché è meglio che a due di noi possiamo fightarceli quando facciamo due versus due. Guarda che poi mi serve pure un'altra kill. Aspetta, ignoriamolo. Facciamo finta che non l'abbiamo visto. Ok. Ah, ma sono due. Ok, una a terra. Mi faccio l'altro al volo. Ok, manca uno, manca uno. Prato, hai 20 kill. Ma sei tu, madonna, che panico. Vieni, Giacomo. Ma sei tu che costruisci? Ok, manca uno. Sai come divertente se questo ci elimina? Sai quanto sbrocco? Ah, finalmente. Dai, hai fatto 26 alla macchina. Ma guys, bella frenetica. Come la lecchiamo noi. Oh, bella. Ma che sta a fare, Fast and Furious? Ho fatto pure 20 qua, 36, ma ragazzi, scusate, disattivo l'einbot, aspetta. Ma che sta a fare, non ho questa macchina? Non lo so, non chiedermelo. Secondo me, non si è accorto che sono finita le riprese di Fast and Furious. Pensa che sta ancora. GG, meglio. 21 kill. Cioè, 20 kill totali, io. Tu? GG, GG. Ma comunque, ragazzi, sta modalità è troppa roba. 25 kill. Ciao, bella. э, è. Grazie a tutti.